Buongiorno, oggi 11 dicembre, procedo a chiamare l'appello dei consiglieri della Commissione Speciale Garanzia e Trasparenza. Consigliere Mattaliano, Consigliere Sala, Consigliere Alcoleo, Consigliere Di Pisa, Consigliere Ferrandelli, Consigliere Forello, Consigliere Ficarra, Lomonaco, Meli, Susinno, Russo, Tantillo, Gelarda. Vista l'assenza di tutti i consiglieri si rinvia di un'ora quindi in seconda convocazione. Grazie.